McTies Italia punta sull'India tanto da essere protagonista all'Indian Ceramics Asia 2023 per la società presieduta da Stefano Compagni il paese asiatico è sempre stato strategico tant'è che nel corso degli anni quello indiano è diventato il mercato di punta per l'azienda di Casal Grande proprio per questo motivo McTies Italia non poteva mancare all'appuntamento con l'edizione 2023 di Indian Ceramics Asia che ha avuto luogo dal 15 al 17 febbraio ad Ahmedabad dove erano presenti oltre 1200 produttori di articoli per ceramiche in quella sede McTies ha proposto la nuova linea di spoiatura che già da tempo è protagonista delle maggiori realtà italiane ed è ormai vicino a diventare una linea pienamente sdoganata da McTies una linea produttiva all'avanguardia a livello tecnologico che punta sul risparmio energetico una linea tutta green che prevede quindi un impatto ambientale molto contenuto contribuendo coi fatti non solo coi progetti a quella transizione ecologica di cui ormai tutti parlano il mercato di oggi chiede prodotti di dimensioni varie sia con spessori più alti dello standard fino anche addirittura a 30 cm sia con spessori sempre più sottili ma nel contempo più resistenti ed è proprio in questo contesto che la nuova linea di spoiatura McTies è in grado di fare la differenza grazie alla sua notevole flessibilità che le consente di processare lastre di ogni tipo dalle più leggeri alle più pesanti in modo da soddisfare le complesse e variegate esigenze del mercato la nuova linea di stoiatura McTies chiamata Eco Green è veramente conquistato gli imprenditori asiatici e può essere adattata e personalizzata in base alle esigenze e agli spazi del cliente presentando un ciclo produttivo completamente automatizzato e digitalizzato nel rispetto delle normative di industria 4.0 per tutte le macchine e per il quadro generale oltre ad essere composta da un portale di carico da una zona di applicazione di Puglioretano a Stuoia da un'area di catalizzazione e dal portale di scarico su cassa o telai la nuova linea è in grado inoltre di eliminare completamente carte plastiche dal processo produttivo riducendo quindi sensibilmente i costi oltre a garantire un altissimo livello di protezione della lastra stessa e un ambiente di lavoro pulito e sicuro per ogni operatore inoltre ogni lastra appoggia sui sostegni barella un sistema brevettato di ricircolo in piano capace di proteggere la lastra stessa evitando quindi qualunque tipo di incidente, segno o rigatura durante il trasporto oltre ad evitare l'inserimento del foglio di plastica che ovviamente non essendo utilizzato rappresenta un risparmio e in più non deve neppure essere smaltito il sistema a pettine rispetto ad altre tecniche consente inoltre la riduzione dell'utilizzo di solventi e di detergenti di pulizia in quanto richiede quantitativi molto più ridotti per il processo di igienizzazione e di mantenimento delle buone condizioni dell'impianto insomma l'Indian Ceramic Asia 2023 il sistema di studiatura McTiles come ha già fatto in Italia e in Europa ha davvero conquistato tutti a tutti